...fabri Marin, un'azienda che l'anno scorso ha realizzato e fattuato due cifre e che sta lanciando delle novità Cosmoprof molto importanti. Abbiamo presentato la nuova radiofrequenza durante l'esibizione del 2009 Cosmoprof, oltre all'inavviso le cellule staminali. Le due cose stanno andando veramente molto bene, anche perché la cosmetologia segue di pari passo la medicina, di conseguenza le cellule staminali sono arrivate anche nel settore cosmetico. In più state vedendo il trattamento a radiofrequenza per la stimolazione tessutale sia viso sia corpo. Per quanto riguarda il tipo di approccio da parte della vostra azienda alla clientela, quali sono le direttrici che vi hanno portato questo grande successo? Personalmente insegno chimica e cosmetologica in 15 scuole del nord Italia, quindi tentiamo di insegnare, di far capire bene la formula, l'inci, gli ingredienti e le nostre estetiste, in modo tale da rendere ancora più consapevoli di quello che stanno utilizzando e quindi essere più forti, saper utilizzare al meglio il cosmetico e saperlo spiegare ancora di più al consumatore finale. Per quanto riguarda l'andamento del settore, qual è la vostra view per i prossimi anni? Il settore sta andando bene e si tratta di coltivare, di coltivare il settore sempre di più, quindi lavorando insieme all'estetista. L'estetista deve essere parte dell'azienda. Più l'estetista segue l'azienda e più vedono degli ottimi risultati e a cascata ne beneficiamo anche noi. Per quanto riguarda la vostra offerta, si concretizza in prodotti, servizi e anche assistenza post vendita? Mi può dare i plasti questo vostro? Abbiamo impiegato tanti anni per tentare di fare un servizio completo, quindi dalla cosmetica, all'attrezzatura, al post vendita. Abbiamo due squadre di service su tutta Italia, quindi anche su macchine di concorrenti, nel senso che bisogna essere capaci, veloci e completi anche nel servizio di riparazione dell'attrezzatura quando nasce un problema. Per quanto riguarda la core competence della vostra azienda, voi siete focalizzati sugli stessi obiettivi degli scorsi anni oppure state cambiando direzione? Noi tentiamo sempre di cambiare direzione continuamente, nel senso di dare sempre servizi e cose nuove. Abbiamo accresciuto il nostro parco knowledge, quindi con ingegneri nuovi, altri chimici e quindi stiamo approcciando anche l'estremo in modo tale di essere sempre più preparati. E con questa novità delle cellule staminali come è stata recepita dalle inestetiste? È un anno e mezzo che è la linea sicuramente più venduta, è una linea che va su qualsiasi tipo di inestetismo, non è una panacea, se è chiaro, per tutti i mari, ma serve come antità, come pelli secche, pelle grasse, come pelle asfittiche, quindi ha un successo incredibile proprio per questa sua completezza. I risultati con una tangibilità indiscutibile? I cosmetici non fanno miracoli, ma risultati assolutamente sì.